Benvenuti da Nardali Sport, questa sera per l'angolo tecnico vi presentiamo lo scarpone Dynafit Oji Pro Tour. Uno scarpone da scialpinismo ma non solo, perché grazie ai suoi materiali e la sua rigidità permette anche delle grandissime discese sia in pista che in fuori pista. La sua caratteristica principale è la leva posteriore, grazie al suo movimento ci permette di sbloccare o bloccare il gambetto per il passaggio dalla camminata alla sciata ma nello stesso momento ci blocca anche i ganci. I tre ganci e la scarpetta termoformante ci permettono di avere un buon confort e un buon bloccaggio per la discesa. La suola prodotta con una nuova gomma antiscivolo ci permette una camminata sicura anche sui terreni sbrucciolevoli. Lo scarpone è predisposto per essere utilizzato con tutti gli attacchi con sistema Dynafit. Da Nardelli Sport è tutto, arrivederci alla prossima puntata.